Michelangelo Pollero Facendo bene in entrambe le posizioni in cui vieni schierato Sì, faccio quello che chiede il Minister con la massima disponibilità Oggi è stato un buon risultato e speriamo di continuare così per il resto della stagione Sei arrivato dal Savonati, catapulti in un campionato diverso come l'Eccellenza Un campionato di grandi per la prima volta Quali sono le tue prime sensazioni in questo primo mese di ritrovo con la squadra? Comunque non è facile il passo da giovani a grandi Soprattutto per la concentrazione e anche per il ritmo Comunque è un campionato dove bisogna tenere sempre alto la concentrazione e l'attenzione in ogni momento della partita E niente, speriamo di continuare così Dai, per ora è andato bene e vedremo La sostituzione a fine primo tempo? Qualche problema? Una scelta del mister? No, ho avuto un problema, un fastidio che mi portavo avanti l'anno scorso Ma niente di preoccupante, spero No, ho avuto un problema, un fastidio che mi portavo avanti l'anno scorso